È abbastanza difficile parlare di un periodo lungo come il Medioevo, che va dal Medioevo al Rinascimento. Tra l'altro è un periodo considerato sempre molto oscuro. Ho avuto la fortuna di recitare Giordano Bruno nella Cena delle Ceneri, la Sainte de Sandra, tra l'altro all'Odeon di Parigi, e dopo che ho conosciuto questo personaggio, tramite questo personaggio, ho cominciato a fare un viaggio nella letteratura, nella storia, nella scienza di quel periodo. La cosa che mi ha interessato di più è la forza e il coraggio che avevano personaggi come lui di illuminare questi periodi così oscuri. Credo che se la modernità, quello che abbiamo oggi della modernità, è quello che passi anche da persone così, che hanno avuto questa forza e questo coraggio. Per quanto riguarda l'amore, che cos'è l'amore? Per me l'amore è la cosa che ci fa essere presenti a noi stessi e agli altri. L'amore per me è la cura che ho per questo mestiere e soprattutto è mio figlio. Questo è l'amore per me.